Amici di Montediprocida.com siamo alla tenuta di Bacco qui a Miliscola per inaugurare la struttura con altre nuove possibilità che darà ai suoi ospiti con il nuovo ristorante, con un rinnovato ambiente intorno con i filari dell'uva eccetera e tanti tantissimi appuntamenti importanti a cui partecipare ma soprattutto venire qua significa relax, buon cibo e ne parleremo con il suo proprietario Vincenzo Guardascione Siamo con Vincenzo Guardascione che ha creato questo nuovo progetto che si chiama Tenuta di Bacco Signor Guardascione, com'è nata l'idea e che cosa ha in più rispetto ad altre situazioni come questa? Allora l'azienda è una azienda vitivinicola dove abbiamo creato nel 2010 una piscina con solarium che l'idea era di creare una piccola dei spa, infatti facevamo vinoterapia da quest'anno la nuova sfida è il ristorante L'azienda si estende per circa 12.000 metri quadri di cui un 60% è falanghina dei campi flegrei, un 20% è piedi rosso, il restante è orto e agrumeto ci teniamo a dire che noi nella parte agrumeto sono 30 anni che non viene assolutamente trattato infatti siamo anche i soci fondatori dell'associazione del mandarinio dei campi flegrei dove quest'anno anche Mennella ha fatto i gelati e il panettone con i mandarini nostri proprio perché li ha trovati al naturale e senza nessun tipo di trattamento Mennella ha grande pasticceria ma anche molti flegrei utilizzano da quando voi avete creato l'associazione i prodotti locali, vero? Sì, infatti l'idea base è quella di creare rete sul territorio quindi cercare di promuovere i nostri prodotti, le nostre eccellenze e cercando di collaborare con un po' tutte le realtà turistico-ricettive in modo da valorizzare e da creare questa rete che potrebbe essere la base dello sviluppo delle nostre piccole realtà produttive Che cosa trova un ospite quando arriva a Tenuta di Bacco? La prima cosa, l'idea di farlo stare bene il benessere, il relax e il buon cibo l'idea base diciamo la nostra sfida è quella di usare i prodotti dell'orto con il pescato del giorno quindi abbiamo cercato di unire i due vecchi mestieri di Bacoli, di Monte di Procede che era il contadino e il pescatore Ottimo, e poi fate anche cose particolari come abbiamo detto come la vinoterapia, vero? La vinoterapia l'abbiamo interrotta per problemi logistici dall'anno prossimo la rimetteremo di nuovo in funzione Va bene, quindi aspetteremo sicuramente la vinoterapia perché è una cosa molto interessante chi verrà qua potrà comunque godere anche della campagna quindi andare un po' in giro, in relax per i filari di uva e poi godersi la piscina e questo bellissimo panorama che affaccia sul lago Miseno e ovviamente sulla spiaggia di Miseno quindi un in bocca al lupo da parte di tutti noi Grazie mille, grazie a tutti voi